Mister Favarino, alla fine le chiedo se ha un punto che la soddisfa. Beh, insomma, contro un'ottima squadra secondo me sì, anche perché venivamo da una partita molto impegnativa da Monza, dove abbiamo fatto veramente tantissimo dal punto di vista atletico, e oggi ero un po' preoccupato perché sinceramente avevamo di fronte un'ottima squadra. Così è stato, però insomma abbiamo gestito bene la partita, abbiamo cercato di portare a casa almeno un punto. Inizialmente nel secondo tempo abbiamo pensato più che altro a stare coperti, a non rischiare assolutamente niente. Alla fine comunque ci siete riusciti in Arezzo che davanti non è riuscito ad incidere molto, nel finale Pauva ne ha messo anche le tre punti, però siete riusciti comunque a contenere bene. Noi avevamo bisogno di levare spazi giocabili per gli attaccanti che ha l'Arezzo, insomma, perché per questa categoria sono veramente un lusso. E direi che abbiamo fatto bene dal punto di vista atletico, la squadra è stata ordinata, non ha sbagliato quasi niente, quindi insomma un punto per sperare ancora di agganciarci.